Atlantide, un nome che evoca mistero, potere, avanzamento scientifico e, infine, distruzione. Questa antica civiltà è avvolta da un alone di mito e leggenda, ma alcuni ritengono che possa celare una verità dimenticata dal tempo. La storia di Atlantide ci arriva da Platone, il grande filosofo greco, che la descrisse nei suoi dialoghi, il Timeo e il Crizia. In queste opere, Platone parla di un'isola prospera e tecnologicamente avanzata, situata oltre le colonne d'Ercole, cioè oltre lo stretto di Gibilterra, che sarebbe sprofondata nell'oceano circa 9000 anni prima del suo tempo. Atlantide, secondo Platone, era una potenza navale, un impero incredibilmente avanzato per l'epoca, che avrebbe però attirato su di sé l'ira degli dèi a causa dell'arroganza e della sete di potere degli Atlantidei. Questo avrebbe portato alla sua caduta improvvisa e devastante, scomparendo in un solo giorno e una notte. Per Platone, Atlantide non era solo una storia epica, ma anche un monito per la sua epoca. Secondo alcuni studiosi, potrebbe aver usato il mito per rappresentare i pericoli della corruzione e dell'eccessiva ambizione umana. Ma l'enigma rimane. Atlantide è un racconto morale o c'è una base di verità in questa storia? Da secoli, esploratori, archeologi e appassionati cercano prove dell'esistenza di questa civiltà perduta, interrogandosi sulla reale collocazione di Atlantide e sul possibile ruolo che avrebbe giocato nella storia dell'umanità. Le teorie sulla sua posizione spaziano dalle profondità dell'oceano Atlantico all'isola di Santorini, fino al Mediterraneo occidentale e persino all'America. Alcune teorie indicano l'isola greca di Santorini, anticamente conosciuta come Terra, come possibile luogo di Atlantide. Nel 1600 a.C. circa, Santorini fu colpita da una devastante eruzione vulcanica, una delle più potenti mai registrate, che seppellì la civiltà minoica e distrusse gran parte dell'isola. Questo disastro naturale potrebbe aver ispirato Platone nella creazione del mito, portandolo a descrivere un'isola che sprofonda nel mare a causa dell'ira divina. Gli archeologi hanno scoperto resti minoici molto avanzati sull'isola, con edifici complessi e sistemi idrici sofisticati, che potrebbero ricordare l'immagine di una civiltà potente e progredita. Tuttavia, non è l'unica ipotesi. Alcuni sostengono che Atlantide possa trovarsi in Spagna, nei pressi di Cadice, dove sono stati rinvenuti resti archeologici sommersi, che ricordano una grande città. Altri studiosi hanno ipotizzato che Atlantide si trovi nelle isole Azzorre, un gruppo di isole vulcaniche a largo delle coste portoghesi, che in epoca antica potevano essere più vaste e ospitare una civiltà. Altri ancora indicano le Americhe come possibile luogo d'origine della leggenda, legando i misteri dei Maya e degli Aztechi ai racconti di Platone su Atlantide. Ci sono poi teorie più estreme. Alcuni ritengono che Atlantide sia stata una civiltà extraterrestre, o una colonia di antichi astronauti, avanzati nelle tecnologie e nelle conoscenze scientifiche, distrutta da un evento catastrofico. Secondo questa ipotesi, gli Atlantidei avrebbero lasciato dietro di sé tracce delle loro conoscenze nelle civiltà antiche, influenzando popoli come gli Egizi e i Maya. Queste idee, sebbene affascinanti, restano al limite della speculazione. Oggi il mistero di Atlantide continua ad affascinare, e le tecnologie moderne hanno riacceso la speranza di trovarne le tracce. Con l'uso di sonar sottomarini, esplorazioni robotiche e mappature dei fondali marini, stiamo scoprendo sempre più dettagli del passato sommerso del nostro pianeta. Alcune di queste scoperte rivelano antiche città sommerse e strutture misteriose sotto le acque, alimentando il mito di Atlantide e dando nuovo impulso alle ricerche. Tuttavia, non esistono prove concrete che colleghino queste scoperte ad Atlantide, e la maggior parte degli storici e degli scienziati concorda sul fatto che la città sia solo un'allegoria. Ma perché Atlantide continua a suscitare così tanto interesse? Forse rappresenta qualcosa di più profondo, il desiderio umano di scoprire una civiltà avanzata, di conoscere il passato e imparare da esso. Atlantide è diventata un simbolo della nostra curiosità per i misteri irrisolti e per ciò che potremmo ancora trovare nelle profondità della Terra. E finché ci sarà la curiosità umana, continueremo a chiederci. Atlantide è solo una leggenda o una verità sepolta nelle profondità dell'oceano? Atlantide continua a vivere, non come luogo fisico, ma come leggenda immortale. È un monito, una storia di ascesa e caduta, che ci invita a riflettere sui limiti del potere umano e sulla fragilità della nostra civiltà.